A 40 anni dalla sua morte il circolo del cinema di Norisi di Trani ha ricordato uno dei più grandi intellettuali del nostro paese, Pierpaolo Pasolini, con una retrospettiva dedicata al suo rapporto con Edoardo De Filippo. Cosa ci fanno insieme Edoardo De Filippo e Pasolini? Sono insieme perché erano insieme nel novecento a rappresentare la vera cultura dell'epoca, avevano una identità di affezione verso i problemi della protesta, del modo come ribellarsi ad un'epoca nella quale forse la politica stava prendendo il sopravvento a quelle che erano le situazioni dell'epoca. Insieme perché, tra l'altro, Pasolini, finito tragicamente nel 2 novembre del 75, aveva già programmato di fare con Edoardo un grande film del quale stasera parleremo. Ecco perché la comunicazione è interrotta fra i due. La pensavano alla stessa maniera. E dirò che quando Pasolini tragicamente scomparve, Edoardo gli dedicò un'intervista proprio il giorno dei funerali in cui disse «Ve ne accorgerete di quello che è successo? Perché Pasolini, uomo, l'abbiamo perduto in maniera tragica. Pasolini, letterato e poeta, la sua voce, presto, tornerà e sarà forte». Ed è stato così. «Edoardo era un gigante del teatro, Pasolini un gigante della letteratura, ma soprattutto del cinema. Cosa resta oggi del loro insegnamento?» «Del loro insegnamento resta questo vero senso di concepire la poesia, non soltanto come qualcosa di auto rappresentarsi nei versi, ma una poesia che viene definita civile perché è una poesia che si occupa anche della realtà, della vita quotidiana e di quelli che sono i fenomeni sociali». «Edoardo aveva una visione che prendeva da Pirandello la critica della borghesia o della piccola borghesia, però poi la volgeva quasi in positivo con una pietas sorridente che quindi si distanziava dalla critica feroce di Pirandello. Pasolini aveva quell'urlo apocalittico contro l'universo orrendo della modernità che sappiamo, diciamo. «Edoardo aveva una visione che prendeva da Pirandello.